Buongiorno dal Tg1, ieri sera le dimissioni del ministro Federica Guidi per l'intercettazione di una sua telefonata in cui rassicurava il compagno sull'approvazione di un emendamento legato ai suoi interessi imprenditoriali. Lascio per opportunità politica, ha scritto la titolare dello sviluppo economico, decisione condivisa dal premier Renzi. Per i 5 Stelle deve dimettersi l'intero governo. Sentiamo Roberto Chinzari e poi Sonia Sarno. Questione di opportunità politica. La ragione delle dimissioni dall'incarico del ministro per lo sviluppo economico è messa nero su bianco nella lettera che Federica Guidi indirizza in serata a Matteo Renzi. È l'atto pubblico finale di una vicenda esplosa quando l'intercettazione legata alle inchieste sul petrolio in Basilicata è rimbalzata nelle stanze del ministero di via Veneto. Una telefonata in cui rassicurava il compagno del passaggio di un emendamento. Inizialmente il ministro ipotizza una strategia difensiva, poi capisce che restare al proprio posto sarebbe stata la scelta peggiore. Quindi la telefonata con il premier in visita a Boston che fa notare come non ci sia tempo da perdere per prendere l'unica decisione possibile, le dimissioni. È così la lettera, apprezzata da Renzi, dove la Guidi ribadisce la propria buona fede e la correttezza del suo operato. Ma le dimissioni sono necessarie per difendere se stessa, per evitare il fuoco di fila contro il governo. Sono stati due anni di splendido lavoro insieme, si legge ancora nella lettera. Continuerò come cittadina, come imprenditrice a lavorare per il bene del nostro meraviglioso paese. Al ministero, che sta affrontando tante vertenze a dalle mandali, bisognerà presto indicare un nuovo titolare. Sarà una donna. Si parla di Teresa Bellanova, astinata da Renzi, ex CGL, attuale vice ministro, ma non è l'unico nome in ballo. Il governo si deve dimettere, lo scrive Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook e dice ora salta tutto. Nel mirino anche la ministra Boschi. Dimettiti la campagna online dei grillini se è un conflitto di interessi viventi. Il giorno dopo il caso Guidi, 5 Stelle dunque rincarano la dose e annunciano una mozione di sfiducia contro tutto l'esecutivo. Noi adesso vedremo nei prossimi giorni in quale camera sia più opportuno presentare questa mozione di sfiducia e dove ci sono più probabilità di mandare a casa questo governo. Quindi la strategia parlamentare la stiamo pianificando in queste ore, ma siamo pronti a fare di tutto per mandare a casa Renzi e adesso noi invitiamo tutti coloro che dicono di volerlo mandare a casa, anche la minoranza PD.